Orchidea Orchidea Allora perfetto, ora mi serve solo il suo elenco di peccati ed ecco a lei, buona permanenza Wey, grande! La prossima volta cattivi, eh? Mister Osama! La suggerirò per il ruolo di staliere Ah, e io che tenevo per occhetto, da quello che leggo qui è davvero un grandissimo Imprenditore, innovatore e amato da tutti 15 giorni di lutto nazionale La fine di un'epoca! La fine di un'epoca! La fine di un'epoca! Seguitemi in un viaggio alla riscoperta dell'Italia Qui siamo in Emilia-Romagna Socio e almerfo ora! Ed eccoci in Sicilia E questa è la Lombardia Tranquilli, succede ogni anno Big Pocket! Attenzione, borseggiatrici! Oh! Ma per caso i tuoi genitori sono dei ladri? Sì! Oh, fra, tutto a posto? Mi ha rubato il cuore! È successo d'improvviso! Ah, eccolo lì! Chiudetelo in cella! No! Ma è un'orsa! Chiudetela! Che barba se sente! Vabbè! Va tutto finto! Ma chi vogliono prendere in giro? Si vede che le rose erano già state messe sul palco! Vediamo se c'è qualcos'altro! L'utilizzo dei social può portare a una visione distorta della realtà e causare un forte senso di inadeguatezza ma da oggi non più grazie a Spunta Blu con un pagamento mensile e alcuni tuoi dati personali e anche se non ti calcola nessuno potrai sentirti qualcuno Sono qualcuno! Ehi! Tesoro? Tesoro? Dov'è la mamma? Guarda, papà è qualcuno? Mamma non c'è, ti ha lasciato quella Una pesca? No, è una pratica per il divorzio Ah! Ciao Barbie stramba! Ciao Barbie! Ciao Barbie sovranista! Cosa sono questi inglesismi? Chiamami Barbara! Ciao Barbie omocromista! Ma si può andare in giro così ma cambia outfit! Come sto? Sei bella, bella fisica! E all'improvviso arriva una mega bomba atomica! Ora sono diventato morto il distruttore di mondi! Sei il solito lanzichenecco Pesca, 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 pesca Papà! La situazione è degenerata! Hai cominciato tu! No, sei stato tu! Per la settantacinquesima volta se continuate a sporcarvi le mani entrambi come posso prendere sul serio le vostre ragioni? Cos'era una specie di metafora? Speriamo che trovino un accordo laggiù che quasi comincia a stare stretti Ma che roba! No! Ma è sicura questa cosa? Guarda, siamo letteralmente in una botte di ferro Pirata della strada! Un uccellino mi ha detto che troveremo il tesoro dove questa grande X Guardate Ho già stampato i manifesti Che ne dite? Mi dispiace, Elon Nell'incontro è saltato Sua madre non vuole Era tutto l'anno che pensavo all'impero romano Sono un po' giù per questi video che sono usciti nell'ultimo periodo Striccia? No, grazie, ho già fatto Ma che guerra deve fare uno per tornare in tendenza? Professor Scienziati Ci mostri la sua creazione? È un insieme di intelligenze artificiali generative L'ho chiamata FUNKIN STAI Sa creare immagini Testi Voci È un'innovazione dalle incredibili potenzialità E non deve sfuggirci di mare Infatti è fuggita Cosa fai? Fermo! Ma non capisci che You're in a museum You can't do this It's completely Inaccettabile, amico Sì, chi è? Per favore, aprite Sono una giovane Olifancer Mi si è fermata l'auto qui fuori Piove Mi bagnerò tutta Non so se crederti E ci sono anche io Roberto Benigni Ah beh, allora E d'ora una buffata di talenti Vabbè, uno spuntino Dopo la vita è bella Non è più lui Sono stato incaricato di catturare questo AI Voi avete visto qualcosa? Certo Ho visto lei che bacia lui Che bacia lei Che bacia me E voi? Avete visto questo robot? Ha usato la parola con la R Questa persona non è reale Fermatevi Non è stato creato per rimpiazzarci Ma per rafforzare la nostra creatività Non potrà mai ricreare quel valore Che può trasmettere solo un animo umano Ho fatto questo per te No, ma che figata L'ha fatto così in due secondi Ma sta roba fa paura E fu così Che l'intelligenza artificiale Non rese obsoleta l'umanità O perlomeno non fino ai prossimi 5-6 mesi Ops Buon anno a tutti Non ne dava